GSA Moto. Radduppia. Abbiamo aperto un nuovo spazio espositivo per accoglierti meglio e soddisfare tutte le tue esigenze di mobilità. Accanto alla nostra sede storica di via San Giorgio Vecchio, troverai ancora più marchi, tra cui QJ Motor, Moto Morini, Zontes. Ma siamo anche rivenditori autorizzati Honda, Piaggio, Peugeot, Kinko e Sima. In più ti offriamo la massima affidabilità del nostro service ufficiale per tutti i marchi che rappresentiamo. Non potrai fare a meno di noi. GSA Moto. Via San Giorgio Vecchio 40 42 44 e 50 52 54. Mentre il service è al civico 132 134 a San Giorgio a Cremano.